Dopo il grande successo della prima edizione di Exotica 2022 il tempio ritorna con Exotica 2.0 Il tempio mi invita al partimo a fine estate Il tempio mi invita al partimo a fine estate Il tempio mi invita al partimo a fine estate Il tempio mi invita al partimo a fine estate Il tempio mi invita al partimo a fine estate